mi chiamo ermano africano sono in ligure e ho la passione delle macchine antiche dei mezzi d'epoca e poi piano piano mi ha preso anche l'idea di restaurarle sono partito da zero non avevo nessuna nozione se non che la giusta manualità passo per passo insomma ho imparato a portarmi a casa delle macchine che sono io definisco delle gruviere completamente distrutte e poi piano piano me le restauro me li porto avanti quasi completamente con le mie energie con le mie forze un'auto così lo vediamo in queste foto è stata presa che in un fienile era malconcia malcombinata però aveva un suo perché è una macchina un esemplare unico su meccanica fiat del 48 carrozzata da un carrozziere per ora ignoto speriamo di capire a più presto di capire chi era il carrozziere e ne studieremo meglio la paternità e l'auto adesso in questa fase qua è stata parzialmente vestita ha bisogno ancora di cure su tutti gli interni la meccanica il motore come vediamo è ancora in terra e mi sto prodigando anche a tappezzarla insomma piano piano a tempo perso negli weekend nel tempo perduto ci dedico le sue attenzioni e come con le altre penso che nell'arco di un paio d'anni un anno e mezzo l'auto sarà circolante sulla strada ecco come dicevamo del motore questo è il motore che ormai è stato come si dice in gergo chiuso il motore è stato prima completamente smontato allesato richiuso pronto per essere ospitato sull'auto quello è il cambio questo qua davanti è il corpo motore con tutti i suoi accessori e adesso deve essere ritrapiantato all'interno dell'auto nel periodo del covid per esempio ero qua con le mani in mano mi sono prodigato a fare la tapezzeria questi sono due vecchi sedili perché l'auto purtroppo era senza sedili avevo due vecchi sedili che vediamo nelle immagini proprio distrutti mi sono messo lì insomma li ho restaurati lo scafo sotto e poi con dei vecchi sofà con della stoffa idonea ho creato i sedili e a quel punto ho fatto anche tutti i pannelli delle portiere è un'auto che nel suo piccolo comunque voleva avere una sua veleità di lusso perché attorno alle portiere troviamo questi legni qua che quando li ho smontati erano completamente avvolti dalla vernice mal combinati pulendoli bene lucidandoli bene insomma stanno prendendo la sua forma e scimmiotano un po' le macchine inglesi con i suoi inserti in legno sono convinto che alla fine ci staranno anche molto bene sull'auto ecco amici ora per esempio in queste serate qua mi sono così impegnato a fare il cosiddetto celino dell'auto vedete è una stoffa applicata sul soffitto ha una sua tecnica che da autodidatta ho imparato come si fa e più o meno ormai me li faccio tutte e sto finendo di farlo insomma piano piano smonta rimonta per esempio questo qua adesso fa un piccolo difetto dovrò rismontarlo filare un pelino è tutta una lavorazione che comunque bisogna fare bisogna seguire e piano piano ci arriveremo alla fine anche del celino dell'auto ecco io quando smonto le auto vi dico la verità un'auto come questa che per esempio l'ho scoperta tra virgolette in gergo diciamo vergine non è mai stato smontato da nessuno era com'era com'è stata usata utilizzata sfruttata ma un'auto che mai nessuno ci aveva messo le mani in maniera profonda io sento un senso di pudicità vi devo dire la verità perché dico chi ci avrà messo le mani prima di me le cure che avrà visto quest'auto per esempio questa qua è una dima che poi verrà riportata di nuovo nella sua sede smontandola viene fuori che c'è scritto questo appunto qua e mi ha creato una sorta di emozione insomma siamo gente così Selaio Michele Corso Belgio 112 ecco questo signore qua dico chi sarà stato 70 anni fa cosa avrà fatto come sarà stato che lavoro faceva che famiglia avrà avuto insomma alla fine questo elemento qua ha la sua giusta dignità ritornerà sull'auto lo metterò a posto lo riattaccherò farò quello che c'è da fare ma voglio che la dima del signor Michele ritorni sull'auto come lo era 70 anni fa